Una domenica delle palme ieri, così come ci si aspettava già da tempo, nessun assembramento all'interno o all'esterno delle chiese, ingressi contingentati e distanziamento obbligatorio. Certo, misure meno stringenti rispetto lo scorso anno, quando ci si trovava in pieno lockdown. In alcuni casi, dove è stato possibile, le cerimonie si sono tenute all'esterno, come nel caso della parrocchia del preziosissimo sangue a Ragusa. Nella cattedrale di San Giovanni Battista, sempre a Ragusa, a Santa Messa in occasione della Domenica delle Palme, si è svolta con un minimo di presenza in chiese, soprattutto in streaming sui social, a presiederla l'amministratore apostolico Monsignor Roberto Asta, che ha benedetto palme e ramoscelli d'olivo. Molto significativa in questo particolare momento di pandemia, quelle che si sono svolte all'interno dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed organizzate dalla Pastorale della Salute. Al termine della funzione, i malati hanno ricevuto i ramoscelli di Ulivo Beneretti. Inoltre, i medici e gli operatori sanitari che si prendono cura degli ammalati hanno ricevuto le crocette, simbolo della settimana santa offerte dalla parrocchia della Sacra Famiglia di Ragusa. Le iniziative della Pastorale della Salute sono proseguite anche oggi, lunedì santo, con gli auguri pasquali ai malati covid a partire dalle 9.30 al reparto di rianimazione del nuovo ospedale. Quindi, la stessa iniziativa sarà ripetuta il martedì santo, allo stesso orario, al reparto RSA Covid dell'ospedale Maria Paterno Arezzo e il mercoledì santo, sempre alle 9.30 al reparto malattie infettive del Giovanni Paolo II. Su iniziativa della gioventù francescana della Sacra Famiglia, spiega il direttore dell'ufficio diocesano, il sacerdote Giorgio Occhipinti, abbiamo donato delle crocette a tutto il personale ospedaliero del Giovanni Paolo II, agli infermieri, ai medici per ringraziarli con questo piccolo dono per il loro servizio in questo periodo di pandemia.